chimera è il primo programma di approfondimento giornalistico su temi naturalistici natura e ambiente come non avete mai visto raffaele bisegna conduce chimera il nuovo programma di rete 8 martedì in prima serata ore 20 saremo il vostro punto fermo in un contesto spesso oggetto di forti scontri di opinione grazie